Facciamo secco Fettel Che burloni! Che burloni a volte! Tutto a piena potenza, pronti ad andare alla riscossa C'è qualcosa qui? Vediamo No, ho semplicemente preso una scorcia... What the fuck? Una scorciatoia Mi ha dato dei chiodi in più, bene Quella è una mina di prossimità, vero? Sì Qualcosa mi dice che non posso passare Quindi faccio il giro Quanta roba, quanta roba Ma... mi serve sta pistola? No, ho ancora il mio fucile a pompa Figurati se lo scambio per delle pistoline Quando lo spara a chiodi poi Dunque Oh Fuck Hanno perso Javkowski Immagino che qui sia chiuso, infatti Vorrei non avere a che fare con quelli ma sento che dovrò Un'arma silenziosa questa Un'arma silenziosa Suzie Mi chiedo perché premo sempre abbassati per sbagli invece di... No, il mio obiettivo è premere abbassati ma mi scappo da premere per allento al tempo Aspetta, qua sopra cosa c'è? Dimmi che c'è qualcosa di buono C'è niente di che? Oh, ok Bene Bene, bene Lì c'è roba che voglio E si spera anche in un passaggio In un passaggio, una scorciatoia C'è gente qui? No Bene Sparachiodi Medikit F-booster Via E ora? Sembrava un tombino Dunque Devo tornare indietro Se non fosse che non si può tornare indietro da qui Aspetta, come ci sono arrivato fin qui? Ah ecco Sono sciocchissimo a volte Di qua Scendo qui E proseguo E' un po' che non si affaderà la bambina Sono quasi preoccupato per lei Tipo classe Ho fatto il giro Ma quell'area continua ad essere inaccessibile Dovrei Dovrei Tipo che so Spegnere Perchè c'è un'ombra lì? Ok Puoi aprirti a me? Che giorno è? Ah Hacking Essenziale per questo gioco Sì Altra roba bonus Cosa ho preso? 5 granati di prossimità No? What? Ah no Una granata di prossimità Raggiungibile col tasto 5 Ok Nient'altro? Bene Fammi alzare Lo voglio questo? No Io mi tengo lo sparachioio E vediamo che succede Ora Dato che il checkpoint era indietro Io faccio così Salvo qui Male che va Prenderò poi il Fucile d'assalto Questa era da dove sono venuto Wow Porca di quella Sì 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 Tentativa numero 2 Ho scelto l'arma sbagliata Devo prendere lo sparachioio di qui Wow Ok Ancora non sei morto? E che cos'è? Andiamo va Niente da prendere Niente da Ok Sì Uno potrebbe pensare Il cerchino è efficace Dalle distanze Ma anche questo qua Non scherzo Basterà lentare il tempo Finch Infatti Prossimo richiede questo però Cosa c'è qui? Ah proprio reiterano Vogliono che prenda Quest'arma qui Ok Questo mi fa comodo Salviamo come De Nabi Via Wow Ah non era dietro di me Voglio sperare Questo è un punto critico Meglio salvare Dunque Ma sì Andiamo di questo Attenzione No Grazie Pons 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 Vabbè Ciao Basta Sono un coglione Sono un deficiente Ok Facciamo sul serio C'è rimasto zoppo Povero Beh Wow Ti ho appeso Ti ho appeso Per le Per le anche Figa Wow Non mettermi paura Pezzo di cane Ancora non sei morto What the fuck Chi è Chi cazzo è Finiti Oh bene Cosa è stato Che cosa è stato Wow Queste sono le munizioni Dello sparachiodi È notare Cioè Ma sono enormi Cioè se io faccio così No Lasciamo perdere Pins Pins Mio Ora Almeno di Almeno di sorprese Io dovrei Aver finito Questa zona Minchia Abbiamo sparachiodo Anche tu Mi dispiace Io ho il monopolio Io devo sparachiodi Ok Non mi piace Questa situazione Comcast Comcast Questo è Just 7 Ho sentito C'è qualcuno Ne ha bisogno di rinforzare Ho un HLZ Per me Sì Sto mostrando Una decente Sizeda Diar Just Diar 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 Una nave Da Penso che per Ganship Intenda Qualcosa di Molto pericoloso Da affrontare Può essere Che ca Lattine Basta Basta Non riesco più A tirare le lattine Come si deve Così Ok Bene Prossimità Ne ho già un'altra Vero? Sì Quindi Aspetta Ho quelli regolari Prossimità E remote Vedrò Vedrò Questo qua Invece è il mio Regolare mitra Non ho Accuci d'assalto Basta fare Distribuire Il cazzo Come c'è Chiarato Soltanto Mosso una lattina Facciamo così Dato che lui Il mio Contrometto Salvo adesso Salvo adesso